4 carri allegorici per caratterizzare l'edizione 2020 del Gran Carnevale di Maiori che ruoterà attorno all'arte con Peace and Love, In un mare di guai, Il mondo nelle nostre mani e Penso Positivo a cui si aggiunge un quinto carro fuori concorso dal titolo Ciao Darwin. Tre sfilate dei carri allegorici lungo il tratto di strada compresa tra via Nuova Chiunzi e il porto turistico di Maiori da oggi fino al prossimo primo marzo, poi domenica 23 febbraio, il giorno di carnevale, martedì 25 febbraio ed ancora domenica primo marzo. Tre date ed un programma che si annuncia ancora una volta spettacolare è quello della 47esima edizione del Gran Carnevale di Maiori, evento organizzato dal Comune e finanziato dalla Regione Campania che quest'anno ha ottenuto anche il patrocinio del Comitato Organizzatore delle celebrazioni per il centenario della nascita di Federico Fellini, il cui logo campeggia accanto a quello dell'identità visiva dell'evento. Maiori da mare dal Carnevale a Fellini Cento un appuntamento dove figurano oltre agli eventi ludici dedicati ai bambini anche il concerto di Monica Sarnelli, giusto per citarne qualcuno, lo spettacolo teatrale di Rosalia Porcaro e il concerto del Due Bene Sis. La tematica di quest'anno del nostro Gran Carnevale è proprio l'arte intesa in senso ampio e gran parte degli eventi e delle manifestazioni che faremo insieme alle sfidate saranno proprio dedicate al nostro maestro a cent'anni della sua nascita, maestro Fellini a cent'anni della sua nascita. La struttura portante del Carnevale sono i carri, la costruzione dei carri da parte di questi maestri cartapestai, quest'anno abbiamo messo a disposizione questi capannoni nuovi che un po' hanno reso ancora più importante e impegnativo il lavoro che loro hanno fatto, bravissimi da sempre con questa tecnica e loro utilizzano una tecnica particolare che modellano praticamente il ferro con sopra la cartapesta, una tecnica che usano forse in Italia pochi cartapestai, forse solo a Potignano utilizzano questo tipo di tecnica e poi dei gruppi da ballo che accompagneranno le sfidate veramente preparatissimi. Sono soddisfatto anche perché in questi anni il Carnevale è cresciuto molto e ogni anno presentiamo ai nostri concittadini, a tutti i numerosissimi ospiti, anche quest'anno ci onoreranno della loro presenza, veramente un Carnevale degno di questo nome, degno della tradizione che c'è sempre stata qui a Maiuri.